Bene, chiudiamo questo argomento, tanto ci sono sei mesi, chi vuole potrà andarlo a vedere, però ecco, su questo come è successo per il fatto degli abiti, secondo me c'è una paura, una paura di non ottenere i risultati sperati, allora si mette insieme più roba come il discorso del museo del costume che io avrei messo a Ragusa, non al castello, però al castello già ci vanno 70.000 persone, 80.000 così se lo vedono, non è questo lo spirito, secondo me. Va bene, ma ne parleremo. Andiamo avanti a proposito di turismo, c'è stata ieri una iniziativa organizzata dalle Proloco della provincia di Ragusa, o meglio, un'iniziativa che era in collaborazione con Google, Google Culture, è scritto culture, no però culture, praticamente cosa fa Google? Google è riuscito, non ci facciamo spiegare, grazie all'intervento delle Proloco che hanno messo a disposizione il personale, le foto, le informazioni, siamo riusciti come Proloco a mettere dentro questa piattaforma qualcosa di molto particolareggiato che riguarda la provincia di Ragusa, compresa quella visione importante che è lo street view, che vuol dire quelle cose che si entra nel posto e poi col mouse puoi girare, guardi in alto, guardi in basso, insomma, è davvero un bel lavoro. Questo lavoro è stato coordinato da Giorgio Caccamo che è il presidente provinciale delle Proloco e devo dire una cosa molto interessante. Allora, una parola, due parole sulla Proloco. Le Proloco sono state fondate alla fine del 1800 proprio perché nelle altre nazioni, e la storia è scritta sul rete eblea, ho fatto un articolo, già avevano un'idea dell'accoglienza, ma allora si già faceva un riferimento al fatto che noi in questa Italia non siamo così bravi a rendere le case, che sarebbe i luoghi che devono essere visitati, a renderli davvero belli per essere visitati. Questo è il nostro limite. Ora, vedete come funziona, è bella questa immagine. Allora io dico, le Proloco hanno un momento straordinario, la mancanza di riferimenti a livello provinciale, perché non ci sono più riferimenti, non ci sono le APT, non ci sono le province, non c'è più niente. Allora le Proloco potrebbero prendere questo ruolo, questo ruolo di coordinamento nel provinciale, visto che ne abbiamo 10 su 12 comuni, e davvero avere quel ruolo che gli altri non possono avere. Ogni comune pensa per sé, lo sappiamo, cos'è che può unire tutti i comuni, le Proloco, che sono associazioni riconosciute, che sono riconosciute dalla regione in un albo apposito e che potrebbero davvero svolgere questo ruolo. Intanto sentiamo cosa dice Giorgio Caccamo, il Presidente provinciale dell'Unpli su questa manifestazione.